Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video Allora, oggi è una giornata importante, vabbè, intanto perché si gioca Italia-Argentina a Wembley La finale della Coppa Maradona, le due squadre comunque Italia-Argentina che hanno vinto le ultime due competizioni L'Italia, l'Europeo, l'Argentina, la Coppa America e quindi una sorta di supercoppa per le nazionali Sarà divertente, interessante, sarà l'ultima partita di Giorgio Chiellini con la maglia azzurra Prima di salutare anche la nazionale italiana e quindi speriamo di chiudere con una vittoria Perché dopo non esserci qualificati per i mondiali, almeno una piccolissima, veramente minima soddisfazione Legata a questa sfida ci potrebbe stare Si giocherà a Wembley, lo stesso stadio che ci ha incoronati Campioni d'Europa quasi un anno fa E quindi la dirigenza della Juventus andrà a Londra per assistere alla partita e per fare due chiacchiere con Angel Di Maria Oggi lo sappiamo, è il giorno in cui si incontrano, il giorno in cui si trovano, il giorno in cui trattano Lo scoglio più grande rappresentato dalla durata del contratto di Angel Di Maria E quindi cerchiamo di capire che cosa potrà accadere E attenzione perché c'è anche un altro nome sul taccuino della Juventus che non andrà a essere trattato oggi a Londra Ma due parole giusto spenderle Tanto vi metto una scheda di Di Maria, ma questo lo conosciamo un po' tutti Giocatore abbastanza vecchiotto perché è nato il 14 febbraio San Valentino dell'88 Quindi 34 anni, 1,80 m, mancino di piede Questa invece è l'itmap stagionale di Di Maria con alcuni numeri relativi soltanto alla Liga Quindi il campionato, vi ho messo soltanto i numeri relativi ai campionati Senza andare nel dettaglio con altre competizioni Comunque Di Maria ha fatto 5 gol e 7 assist Un buon bottino per 26 partite in totale disputate di cui 19 la titolare Come potete vedere comunque Di Maria è un giocatore che ama partire largo da destra E poi tagliare dentro il campo a prendere la posizione centrale Proprio perché può liberare il suo mancino con un tiro a giro Con un passaggio filtrante all'interno dell'area di rigore Sappiamo bene che quando i giocatori entrano dentro il campo diventano molto più pericolosi Perché sul fondo puoi mettere il cross dentro il campo Invece puoi fare diverse cose tra cui far anche arrivare in sovrapposizione Un terzino, mi immagino un eventuale 4-3-3 Con un quadrado dietro Di Maria Con un quadrado che va a prendersi Quello spazio per Di Maria che si accentra In sovrapposizione ormai l'abbiamo visto anche tante volte l'anno scorso Con Kuruseschi e quadrado E poi Di Maria che serve sulla profondità per poi generare il cross Quindi questa potrebbe essere un'opzione Tra l'altro 4-3-3 o meglio vedremo due fasce l'anno prossimo Che Allegri non si è sentito di negare E ha detto potrebbe anche essere Quindi potrebbe davvero accadere questa cosa Con Di Maria da una parte L'altro giocatore che vedremo tra poco dall'altra E cerchiamo di capire anche che tipo di giocatore è Allora alcuni dubbi su Di Maria Qua cerchiamo di aprire il vaso di Pandora Perché su Pogba ho fatto un articolo addirittura intero Su numero 10 Non so se lo avete letto oppure no Comunque per quanto riguarda Di Maria Alcuni dubbi ce li ho Leggo tanti vostri commenti Di gente che continua a dire Sì però non è strano che Di Maria voglia un solo anno di contratto Per fare il mondiale E poi basta tornare all'Argentina Non ti sembra che la Juve venga sfruttata in questo modo? La risposta è sì Di base a questa domanda E infatti la Juventus per due motivi Sta cercando di prolungare almeno con un biennale Il primo indispensabile è il decreto crescita Perché con un solo anno di contratto Non scatta il decreto crescita Quindi vai a pagare tutta la tassazione netta Praticamente raddoppiando il lordo E quindi la Juventus vorrebbe risparmiare questa cosa Dato che Di Maria pretende Esige un ingaggio abbastanza importante La Juventus dall'altro canto Potrebbe semplicemente dirgli Allora se vuoi un solo anno Ti becchi di meno Noi tiriamo fuori la stessa cifra Che tireremo fuori con il biennale E poi ti arrangi Ti va bene bene Non ti va bene Amen In seconda battuta Perché la Juventus Avrebbe piacere magari a tenere davvero Per almeno due stagioni Un calciatore come Di Maria Perché sennò banalmente Vado su un altro profilo È vero che Di Maria è un parametro a zero È vero che Di Maria è un giocatore d'esperienza È vero che Di Maria è un campione Con la C maiuscola Ora non so se usare la parola fenomeno Perché forse un po' troppo Però Di Maria sicuramente ragazzi È uno dei giocatori che ha fatto la storia Degli ultimi dieci anni di calcio A livello mondiale Tra nazionale e club E dove è andato Ha sempre fatto bene Quindi Di Maria sicuramente Non lo metto in discussione Credo che sia assolutamente un gran calciatore Non penso nemmeno che sia ancora Completamente in fase calante È ovvio che da qui a brevissimo Ci andrà Magari davvero l'ultima stagione ad alti livelli O magari le ha già concluse O magari ne altre due Questo io non lo posso sapere Ma non lo può sapere nemmeno la Juventus Non lo può sapere nemmeno Di Maria Lì sono caratteristiche fisiche Che a un certo punto vengono meno Per via del passare degli anni Poi ci sono giocatori come Buffon Che è ancora sopra la quarantina Sono dei giocatori affidabili Però vabbè Vediamo un attimo che cosa succede Sono altri ruoli indubbiamente Però il processo di invecchiamento Non è uguale per tutti Lo sappiamo Basti guardare Cristiano Ronaldo Che continua a fare la differenza A un'età elevata Abbastanza elevata Insomma non è uniforme questa cosa E soprattutto io vi dico È vero potrebbe utilizzare Passatemi il termine La Juventus come palestra Per prepararsi al meglio al mondiale Quindi dare priorità alla nazionale Piuttosto che alla Juve E usare la Juve come mezzo Per arrivare allenato al mondiale Questo rischio c'è Ve lo dico proprio tranquillamente Ma in seconda battuta Io vi dico Che è un po' Quello che ho pensato per Arthur Quando trattavamo Arthur Io Detto sinceramente È vero che quella era un'altra Juve Era la Juve che ancora vinceva gli scudetti Che ancora in Europa Arrivava almeno ai quarti di Champions League Quindi sicuramente un'altra Juve Con Cristiano Ronaldo Stiamo parlando di epoche diverse Anche se sono passati soltanto due o tre anni Però Sinceramente Dover inseguire dei calciatori E cercare di convincere i calciatori A vestire la maglia della Juventus Dove magari loro non sono convinti fino in fondo Dove non vedono la Juventus Come trampolino principale Per la loro carriera È vero che Di Maria Ma è la sua carriera fatta Però se cerca un altro contratto pesante In Europa Significa che la sua volontà È quella comunque di proseguire Questa carriera Se non andrebbe direttamente in Argentina E si beccherebbe magari Una preparazione Non di livello come quelle europee Per quanto riguarda il mondiale C'è un dare e un avere Nel mondo del calcio C'è un dare e un avere Quindi Dico tranquillamente Se Di Maria non è convinto Se Di Maria non vuole fare un passo indietro Rispetto al solo annuale Se Di Maria comunque pretende quei soldi Se Di Maria vuole la Juve solo per quella cosa lì Io sono il primo E sapete che io Di Maria lo prenderei ieri Sono il primo a dire No grazie Perché La testa fa tanto Nel calcio E se uno parte con l'idea che Non è convinto al 100% della squadra In cui andrà a giocare Fa lo stesso Noi troviamo un altro Per quanto il profilo sia interessante Per quanto il profilo sia figo Perché pensare di avere Di Maria Devo dire la verità Mi dà una sensazione positiva Ma la Juventus È la Juventus Non è una squadra che Devi stare lì a supplicarti Prego viene a giocare No Questa cosa mi dispiace Non esiste A maggior ragione Non esiste con un calciatore Con 34 anni compiuti Quindi Di Maria Se si troverà Un incastro In cui tutti e due Saremo accontentati Benvenga La cosa figa È che Già oggi Avremo delle notizie O se non sarà oggi Sarà magari domani Al più tardi domani Comunque Qualcosa Lato di Maria Oggi si muoverà Qualcosa Verremo a sapere Lo sapremo Con esattezza Che sia un sì Che sia un no Tutta sta attesa Sta iniziando a stancare Anche perché ieri Per dire Vedendo anche solo le foto Di Perisic Con la maglia del Tottenham Ti rendi davvero conto Che i parametri zero Ragazzi Non ci vuole tanto Questa è l'offerta Questa è la richiesta Si trova un incontro Bene Si firma Si fa le visite mediche Si fa le foto Presentazioni Se no Si cambia Si va su altri profili Non possiamo stare qui Continuare Andare avanti Indietro Ti prego Un anno No Due anni No Cinque milioni No Sette milioni No Voglio giocare in nazionale No Voglio andare in argentina No O sì O no E quindi da oggi Sono contento Che ci sarà La parola fine In un verso o nell'altro A quella che ormai È diventata una telenovela Per un parametro zero Ma è diventata una telenovela L'altro profilo Invece è Kostic Allora Io di Kostic Veramente ragazzi So pochissimo Mi dispiace Perché non seguo La Bundesliga Non ho visto la Bundesliga E la finale Di Europa League Quest'anno L'ho vista soltanto Nel secondo tempo Perché nel primo Ero a giocare io A pallone E quindi Ho fatto un po' fatica Ma Filip Kostic È un classe 92 Serbo Come Blaovic Tra l'altro Si sono parati tra di loro È un metro e 84 Io vi dico Ho guardato un po' di clip Perché ovviamente Per darti Per farti un'idea Di chi è il calciatore È il modo più veloce Mi sembrava più basso Da quello che vedevo Tra l'altro Mi dava l'idea Di vedere Giocare Eden Hazard Non so per quale motivo Ma vedere questo giocatore In quella posizione di campo E fare determinate cose E tra l'altro Ripeto Mi sembrava anche un po' più basso Mi sembrava Eden Hazard Quindi Se vogliamo Un primo metro di paragone Con la tipologia di calciatore Ovviamente Prendetelo con le pinze Basato soltanto sulle clip Che ho visto su YouTube Quindi Vale meno di zero Però mi ha dato Un'impressione Di vedere giocare Eden Hazard Mancino di piede Mi dicevano tra l'altro Molto bravo Anche con il destro È un numero 10 Cosa che non penso Sarà la Juventus Molto veloce Dribbloman è anche Giocatore che comunque calcia Bastanza bene Ha delle belle posizioni Un calciante sinistro Direbbe Allegri Nella conferenza stampa Dell'anno scorso E quest'anno Ha fatto molto bene Con Con l'Hanktrak Di Francoforte Tanto da vincere La finale di Europa League Proprio Di Maria Ha giocato 31 partite Dall'inizio In Mundesliga Anzi 28 Dall'inizio 31 In totale Ha giocato 81 minuti A partita Quindi C'è stato Praticamente sempre Dicevano tra l'altro Che a livello Di infortuni Non è un giocatore Che si lascia trasportare Gli infortuni 4 gol 9 assist La differenza rispetto a Di Maria Come potete vedere È che si fa tutta la fascia Di Maria Si faceva soltanto Il pezzo Di centrocampo Ora puoi accentrarsi Questo invece Si fa tutta la fascia Perché questo? Perché l'Hanktrak Gioca con una sorta Di 3-4-3 E quindi Lui è il quinto Il quarto Di centrocampo Immaginatevi Il 3-5-2 Con cui ha giocato l'Inter Quest'anno Ecco Lui faceva Persic Ok Per intenderci Per avere Un'idea Però lui non è Un esterno Di quel tipo lì È più un esterno Offensivo Ed è per quello Che vi dico Prendete Persic Come riferimento Perché? Perché Persic Nemmeno Era un esterno Di centrocampo Da 3-5-2 Lo è diventato Con Antonio Conte L'anno prossimo Giocherà nel Tottenham Appunto Che non gioca esattamente 3-5-2 Ma 3-4-3 3-4-2-1 Ma poco cambia È l'esterno A tutta fascia Di una difesa 3 Per intenderci Quest'anno ha fatto questo Anche se in passato In realtà Era un giocatore Più offensivo Giocava esterno Nel 4-2-3-1 Quindi questa potrebbe Essere l'idea Della Juventus Una sorta di vice Federico Chiesa Un giocatore Che arriverebbe Adesso Forse la dico Troppo grossa Ma nella mia idea A sostituire Bernardeschi Quindi quell'esterno Quindi quell'esterno Che è titolare Come no E che magari Può darmi Qualcos'è di più Un po' più vecchio Di Bernardeschi Ma anche un giocatore Che comunque Forse ha dimostrato Di più Negli ultimi anni In Bundesliga Gioca Da un bel po' E con l'Eintracht Francoforte Ha pure conquistato Un titolo europeo Quindi Non pizza i fichi Ecco Diciamo così Un giocatore Che è sempre interessante Io non l'ho mai visto giocare L'altro giorno Dicevo Se lo vedo passare Per strada Nemmeno lo saluto Perché non ho idea Di come sia fatto Addirittura la prima volta Che ho letto Che io ero interessato A Kostic Pensavo fosse un procuratore Quindi Ne sono un attimo Documentato Informato Ovviamente ne so Ancora l'1% Di quello che c'è A disposizione Dovesse arrivare Poi ci faremo una scorpacciata Di approfondimenti E saremo curiosi Di vederlo giocare Comunque Un giocatore a destra Un giocatore a sinistra Con caratteristiche differenti Uno più di spinta Uno più di rifinitura Ma due giocatori tecnici Due giocatori che potrebbero Aiutare la Juventus A evolvere Verso Un nuovo Anche principio di gioco Perché noi quest'anno Gli esterni abbiamo sfruttati Veramente Veramente Poco E lì a sinistra Abbiamo schierato Quasi sempre Dall'inizio Rabbio In quella posizione E diciamo che Non è proprio quello Che sognavo da piccolo Ci vediamo oggi pomeriggio Dovessero uscire altre notizie Se no Ci vediamo direttamente domani Dove commenteremo Quello che è successo Per Di Maria E ovviamente anche Un po' di Italia-Argentina Non la vedrò tutta Perché stasera Ho la cena di squadra E il calcio Però Un occhio Cercherò di buttarlo Dovessero uscire le notizie Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti